Musica Ragazzi, benvenuti in una nuova piccola serie che porterò appunto su Infinite Warfare Come molti di voi sapranno su questo gioco sono presenti delle sfide segrete come le Dark Ops di Black Ops 3 Sfide quindi che non sappiamo come completare e che solitamente chiedono di fare delle cose veramente veramente tanto strane Quindi l'obiettivo della serie sarà appunto completare tutte queste sfide che state vedendo qui appunto Episodio dopo episodio andremo a vedere ogni singola sfida quindi vi dirò che sfida è da fare E poi andremo insieme a trovare un trucchettino per farla nel modo più semplice possibile Oggi per esempio andremo a sbloccare una sfida che ci chiederà di ferire un nemico senza ucciderlo E di sopravvivere sia noi che lui per almeno un minuto Per ferirlo si intende con i pugni ovviamente non con le armi Quindi dovremo dare un pugno al nemico scappare e fare in modo che nessuno dei due muoia nel prossimo minuto Quindi per farla ci siamo organizzati in gruppo da sei e abbiamo escogitato un piccolo piano abbastanza semplice appunto per farla nel modo più veloce possibile Iniziate a dirmi qua sotto quale sfida volete che faccia nel prossimo episodio Tenendo conto di quelle che ovviamente ho già fatto che potete tranquillamente vedere nella schermata che è comparsa qualche secondo fa Spero che possa tornarvi utile e niente vi lascio a questo primo episodio un buona visione Allora raga solito piano prendo lo specialista E' quella dell'elicottero Ok prendo lo specialista do il pugno al tipo Sparisco Mi campero E da quel momento in poi non si chilla fin quando non passa il tempo Un minuto E un minuto sei sicuro Albi di sta cosa? Ho scritto un minuto Ok Non chiamo vedi che è sbagliato e passiamo i giorni per provare a fare questa cosa che non è Alala Quanto è figa questa mimetica? Cazzo bellissima vi giuro Sembra tipo il vestito di Sasuke di Naruto Ah ce l'ho ce l'ho ce l'ho Figa vero? Primo passaggio di questa strategia Cercare di prendere l'abilità dello specialista sfasamento Che ci servirà poi per scappare dal nemico Mettetela quindi nel personaggio e fate più kill possibili per sbloccarla in partita Ma io mi lancio per prendere Ma esplode Che grande Mi fanno vomitare cazzo Li trovo Muori Ce l'ho quasi raga Ultima kill e posso agire Ora il problema poi è il solito Vorrò dare il pugno a uno Senza ucciderlo Ok Ultima kill Ok c'ho lo sfasamento Ho sfasamento Secondo passaggio Una volta ottenuto sfasamento Cercare un nemico che è possibile colpire con un pugno E che non vi ammazzi possibilmente dopo un istante Dovete avere la possibilità una volta colpito di attivare appunto sfasamento Quindi colpitelo e attivatelo Siamo pronti eh Allora devo trovare uno Che c'è uno qua che arriva Ok Merda Raga lasciatemi questo Questi che arrivano dall'aereo Lasciatemi lì Ce ne sono Ok io metto vabbè dentro l'aereo ad aspettare Ce ne sono Ce ne sono Bene avete colpito il vostro nemico Siete a metà dell'opera Attivate quindi sfasamento Scappate E mi raccomando Nessuno della squadra Faccia più una kill Questo perché potrebbero rischiare ovviamente di uccidere la persona che avete ferito Mandando all'aria tutto quanto Ok ce l'ho fatta Non killate non killate non killate non killate non killate Ok sono nascosto Sono nascosto ragazzi Sono fermo immobile Sono messo in un punto nerdissimo Se mi mettono a ammazzare qua è Boh la sfiga veramente Bene siete nascosti Ora dovete solo aspettare il fatti di cominuto In questo minuto i nemici potrebbero potenzialmente uccidervi Perché né voi né i vostri compagni possono uccidere Tutto questo sempre per il solito motivo Perché potreste rischiare di uccidere la persona da voi ferita Quindi dovete stare immobili L'unico consiglio che posso darvi è quello di sparare quando vi stanno già sparando Cioè se uno vi viene a prendere e vi sta uccidendo Sparategli Male che vada ucciderete uno E se siete fortunati non ucciderete quello ferito Però almeno non morite Tanto morendo salterebbe tutto all'aria comunque Quindi tanto vale provare Non so se mi vedete sono dietro Ce l'ho sopra Non mi ha visto Non mi ha visto Oddio Oddio mi sta passando a fianco No non ci credo che non mi ha visto raga Non è possibile Mi è passando a fianco Vabbè comunque Resistiamo Se riesco lo facciamo fare ad Albe Ho ucciso uno Vabbè spero non fosse quello Mi hai fatto ucciderlo Sto facendo anch'io raga Ti vedi Leo? Sì 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 ti ho visto Spero non abbia ucciso quello colpito Io mannaggia a te Minimo l'ho ucciso L'ho visto io sono morto Ok fermi eh Fermi 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 Non fate Minchia raga mi sa che mi ammazzano Mi stanno passando a fianco Compari la sfida in alto No se la faccio Sì non killate Anche se l'ho finito Sparate a cazzo raga Sparate a cazzo La faccio anch'io non killate Capo guerriero Tutti i livelli di sfida completati Che cazzo era? Sparate a cazzo Sparate a cazzo Non mi ha dato nessuna sfida raga Non killate non killate Non killate Ma che minuto era? Era 8.40 Ma che minuto era? Ma sì sì è passato Niente Allora non l'ho fatto La cosa divertente ora di tutto ciò È che quell'icona che avete visto Comparire sullo schermo È effettivamente la sfida completata Quindi sì Sono riuscito a farla Solo che trattandosi Della prima che facevo In tutta la mia vita Non sapevo cosa dovesse comparire Mi sembrava troppo piccola Come cosa per essere quella Mi ha detto tutti i livelli di sfida completata Anche a me quello la mi ha detto Allora mi sa che l'abbiamo fatta tutti e due L'abbiamo fatta? Via 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 Era quello? Vabbè Ehm Buon finiamo la partita e vediamo dai Ok Momento della verità Andiamo a vedere se abbiamo sbloccato sta sfida Allora Vediamo un po' Caserma Operazioni speciali Ma distruggiamo un po' sti qua adesso quindi Ehm No al bene io non l'ho sbloccato un cazzo No no l'ho fatta l'ho fatta Attacca un nemico a corpo a corpo Eccola qua Ce l'abbiamo fatta Eccola eccola Lodo Uno così Apo guerriero Let's go Bene questo primo piccolo episodio termina qui Mi raccomando consigliatemi tra quelle che vedrete ora sullo schermo Quale fare nel prossimo episodio Quindi quale titolino vorreste sbloccare Cercherò quindi di fare un episodio per spiegarvi come farlo nel modo più semplice possibile Bene ragazzi per aver visto questo video Lasciate un like E ci becchiamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi per aver guardato inscrizione